Ma le serve qualcosa? Non ho capito, ma... Eh, questo è il teatro nato? Teatro nato? Eh sì, eh. È il teatro nato? Sì, è il teatro nato. Ma ce l'ho fatto, a finalmente, ma ce l'ho fatto. Amore del vero, vero, allora, sono un po' frastornato proprio, perché mi è capitato di tutto. Eh, sono stordito proprio. Perché te, che succede? Eh, non lo sai... Ma scusate, ma... Scusate, sono ancora... Eh, un po' nervosissimo. Beh, ce l'ha fatto, e io non ci arrivo io. Purtroppo non ho l'altezza. Mamma mia, mamma mia. Voi sono l'elettricista o il presentatore? Penso che sono l'elettricista. No, perché... Ma come si prende l'elettricista come video? No, e la voglio mettere al corrente, al corrente, perciò... Ah, l'elettricista. Se mi raccomando di un cicatrice... Eh, proviamo. E poi, guarda, a parte di fare, per arrivare qua, ma ci stesse qualcuno che mette un quartello, per arrivare, ci stessi fanno i shoot. Mamma, mamma, hanno fatto il giro del mondo. E poi, per fare qua, meno male, sono intercorretto, sono riuscita a finire, ecco, è una cosa incredibile. Però, il fatto è questo, e quando arrivavo, sono arrivato bloccato nel traffico, perché c'è uno che si va a buttare proprio giù, dal cavalcaviglia. Davvero? E' un bel luogo. Sì, e non so, c'è vero, era una figura stramma, proprio, a un certo punto, e l'era scocciato nel bosco, perché si stava facendo tanti, non aveva ancora mangiato, ma veniva qua. Ma questo non si decideva. E lo sai che ho fatto? Perché? Senza risunzione, ho risolto io il problema. Io e tu? Sì. E mi sono arrambicato dal cavalcaviglia. Ero un poco faticoso, e ho riuscito a prendere pure un bollastro cardillo, poi. Da chi? Un bollastro cardillo, l'ho pigliato. Un bollastro, la poleria, la poleria. No, quello non ci sta vicino la poleria, io più, un bollastro cardillo, forte, forte. Ah, ma forse è un attacco di cuore. Un attacco di cuore, è una cosa che... E il bollastro non è... Non è bollastro.